Avrete sentito la notizia apparsa sui giornali qualche giorno fa, secondo cui le autorità avrebbero scoperto nel giardino di una coppia di gussago nel Bresciano ben 8 milioni di euro seppelliti in buste con chiusura ermetica. Queste buste erano a loro volta sistemate in scatole a tenuta stagna, magari per evitare che qualche talpa si mangiasse i soldi o che l'acqua piovana potesse far germogliare qualche albero da soldi, tipo quello raccontato dal gatto e dalla volpe di Collodi. Come hanno scoperto la fortuna? Con i cash dog della finanza, ossia dei cani che invece di andarsene per tartufi o a scoprire la droga hanno il fiuto educato a scoprire le banconote. Fantastici! Un cane del genere varrebbe una fortuna. Uno ti chiede, come sei diventato ricco? Ho comprato un cash dog? Ma questi 8 milioni in giardino sono solo una parte del tesoro nascosto dai due. La finanza ha poi trovato anche in soffitta un milione e mezzo in tagli da 20, 50 e 100 euro divisi in mazzette e protetti dai classici sacchetti di plastica. Un po' tipo la scena di Fantozzi in cui lui torna a casa e alla ricerca delle tracce di infedeltà della moglie trova sfilatini in ogni angolo della casa. A questo punto venne colto da un leggero sospetto. Solo che qui c'erano mazzette di contanti. Le autorità in tutto questo hanno trovato quasi 10 milioni di euro e non è detto che la contabilità si fermi qui. Uno magari pensa che si trattava di due vecchietti che magari con una vita di sacrifici e di odio giurato alle banche hanno raccolto una fortuna e risparmiato tutto quel denaro magari da dare ai nipoti o magari per essere seppelliti come i faraoni egiziani. E invece no. Il marito ha 47 anni e la moglie 40 anni. Insomma molto giovani per aver fatto tutta questa fortuna. E proprio per questo sono scattate le manette per evasione fiscale. A questo punto so cosa state pensando. Ma scusa avvocato del piffero, per il solo fatto che ho dei soldi a casa e che non voglio metterli in banca devo essere per forza un evasore fiscale? Prima di accusarmi vuoi fare qualche indagine sul mio reddito? Oppure è sempre il contribuente a doversi difendere? Beh rasserenatemi. La coppia in questione ha confessato dicendo che si tratta del frutto di evasione. E questo taglia un po' i sogni di speranza di molti di voi di poter diventare milionari anche prima della mezza età. Ma questa notizia pone un problema di carattere più generale. Quanti contanti si possono tenere in casa senza violare la legge? Ve ne voglio parlare in questo video. Stirate bene le orecchie e sentitemi attentamente. Sigla. Questa è la legge. 10 milioni in contanti. Ma voi che ci fareste con tutti questi soldi? Ora, al di là del fatto che se sono in nero e non dichiarati, il fisco vi becca subito con il redditometro perché non potete spendere più di quanto dichiarate. Se una persona acquista ad esempio una Lamborghini o due case in Bersilia, ma ha una pensione da 500 euro, ci sarà certo qualcosa che non torna. E questi acquisti risultano subito nei computer dell'Agenzia delle Entrate che fa partire un accertamento sintetico, ossia con il redditometro. E lì poi siete voi a dovervi difendere. Da dove hai preso questi soldi, vorrà sapere l'ufficio delle imposte. Ma veniamo a noi e vediamo invece quanti soldi contanti si possono ottenere in casa. Conservare soldi in casa non è in astratto illegale, neanche se l'importo dovesse essere elevato. Non sei a rischio, neanche se il tesoretto supera il limite consentito dalla legge per gli scambi in contanti, limite che, come sapete, al momento è pari a 2000 euro. Questo tetto, infatti, si riferisce solo ai passaggi di denaro tra soggetti diversi, come in caso di vendite, donazioni o prestiti. Ma nessuna legge limita il possesso in capo alla stessa persona di una grossa somma di denaro. Bisogna però considerare che se dovesse intervenire una visita della finanza a casa e la cifra dovesse essere non congrua rispetto alla vostra dichiarazione dei redditi, beh, il contribuente potrebbe avere dei seri problemi. Dovrà infatti dimostrare la provenienza di tanta ricchezza. Un esempio ci chiarirà le idee. Antonio presenta un 7,30 dichiarando 18.000 euro l'anno. Sul conto corrente che ad inizio anno registrava solo poche migliaia di euro, a fine anno ve ne sono depositati ben 70.000. La finanza bussa alla porta di Antonio, chiedendo di visionare carte e documenti con le varie dichiarazioni dei redditi. Viene richiesta l'apertura di una cassaforte rinvenuta una somma di 250.000 euro in contanti. Antonio deve dimostrare ai verificatori come si è procurato questi soldi, visto che dichiara al fisco solo 18.000 euro l'anno. L'esempio vi dimostra che in materia di ricchezza è sempre il contribuente a dover dimostrare al fisco la provenienza lecita del denaro, ragion per cui farà bene a conservare carte e documenti, tutti possibilmente con data certa, da cui si evincono le ragioni del possesso dei soldi in contanti. Pensate a una vincita al gioco, o alle scommesse, o a una donazione di un amico, o a un prestito. Qui però c'è una novità di cui vi voglio parlare, una novità molto interessante. Un recente decreto legge ha stabilito una nuova regola. Da oggi, dice la legge, è sempre il fisco a dover fornire la prova dell'evasione fiscale fatta dal contribuente, e non il contribuente a doversi difendere. È una nuova norma che sta suscitando molte discussioni su quali saranno le sue applicazioni pratiche. Di fatto, però, nel nostro caso, la prova è già insita nel fatto che se il contribuente dichiara 18.000 euro in un anno, non può avere in casa 250.000 euro, o 10 milioni, come nel caso della coppietta. In verità, l'accertamento a casa del privato, però, non è un'eventualità così frequente. Anzi, senza valide e attendibili prove di reati in materia fiscale, il pubblico ministero, chiamato a fornire l'autorizzazione alla finanza per effettuare l'ispezione presso la residenza del contribuente, non può mai rilasciare alcun mandato. Il che significa che la guardia di finanza non potrà mai bussare alla tua porta per fare un controllo a campione o sulla base di una semplice segnalazione di un vicino di casa o di un cliente. A meno che, appunto, non ci sia un reato di evasione fiscale. L'evasione fiscale non è sempre un reato. Il reato scatta solo quando non si dichiarano almeno 150.000 euro di IRPEF e tali redditi non dichiarati superano il 10% del totale dei redditi o comunque i 2 milioni di euro. Invece, se non fate la dichiarazione dei redditi, il reato scatta molto prima. Scatta quando evadete allo Stato 50.000 euro. Pertanto, le prove in possesso del fisco contro il privato devono riguardare non una semplice irregolarità tributaria come ad esempio il mancato pagamento di un'imposta come l'Imu, l'Atari o il Bollo Auto, né l'inadempimento alle cartelle esattoriali. Si deve essere in presenza di un vero e proprio reato tributario. E non è affatto facile che un piccolo contribuente che non compia attività criminose si trovi in una situazione del genere visto che la legge fissa delle soglie di punibilità, come abbiamo visto, piuttosto elevate per chi svolge un semplice lavoro autonomo o dipendente. Insomma, detto senza peli sulla lingua, se anche conservate a casa un discreto gruzzoletto in contanti frutto di lavoretti non dichiarati al fisco, di un affitto in nero o di altri compensi segreti, è assai difficile che qualcuno venga a farvi un controllo nel vostro domicilio. Da quanto vi ho appena detto, potete anche comprendere che non esiste un limite ai contanti da detenere in casa. Se riuscite a dimostrare la provenienza dei soldi nella remota ipotesi di un controllo fiscale, non dovrete temere alcunché. In un esempio scolastico, una persona che guadagna un milione di euro l'anno e lì dichiara l'agenzia delle entrate potrebbe conservare a casa tutto il denaro guadagnato senza avere problemi. È chiaro però che nell'ipotesi in cui dovesse poi procedere a spendere questi soldi, dovrà tenere conto dei limiti previsti dalla legge per i pagamenti in contanti. Ad esempio, volendo pagare 5.000 euro a un ingegnere per dei lavori di ristrutturazione a casa, non potrà consegnargli il cash, ma al più dovrà depositare il denaro in banca e farsi rilasciare un assegno circolare, che è una forma di pagamento tracciabile così come la legge vuole tutte le volte in cui si supera il tetto per l'utilizzo dei contanti. Sintetizzando quanto vi ho appena detto perché la sintesi fa sempre bene al corpo e alla mente, possiamo così concludere. Non esiste un limite di soldi che si possano tenere in casa, salvo dimostrare la provenienza del denaro nel caso in cui alquanto remoto la guardia di finanza dovesse fare un accesso presso la vostra dimora e scoprire i contanti. Due, nel caso in cui si voglia spendere il denaro, si dovrà tenere comunque conto dei limiti all'impiego dei contanti, evitando così di concentrare la somma in un unico pagamento, ma frammentandola in operazioni con soggetti differenti. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge e come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale Questa è la vera legge.